Buonasera ai telespettatori, siamo anche oggi a questo appuntamento del Punto e passerei visto il brevissimo tempo che abbiamo, passerei direttamente a leggere qualche messaggino che mi è arrivato da qualche amico ascoltatore, non tanto amico ascoltatore, che comunque ringrazio per l'attenzione che ha nei confronti di questa trasmissione e anche per esprimere le sue posizioni. Questo spettatore mi scrive che non è possibile ascoltare le tue offese su persone che sessualmente fanno scelte diverse dalle tue, se un giorno tuo figlio ti dicesse che è gay, si riferisce appunto al problema degli omosessuali, attendo una tua risposta. La mia risposta è semplicissima, caro telespettatore, non vorrei che mio figlio fosse gay, tutto qua, anche perché non ho figli maschi, forse ho due figli e femmine, purtroppo anche tra le donne esiste l'omosessualità, preferirei moltissimo che le mie figlie crescessero in maniera normale, facessero una vita normale e si formassero in una famiglia normale. se poi dovessi vedere che le cose non vanno tanto bene, le farei curare, perché chi è omosessuale fa una scelta che è contraria a quella, questa è un'opinione mia ovviamente, fa una scelta che è contraria a quella che la natura gli ha indicato. Se hai degli ormoni maschili, se hai un genoma di tipo maschile, se hai gli cromosomi X e Y invece di avere gli XX fai il maschietto, se hai XX fai la femminuccia. Il contrario è un po' fuori natura, probabilmente c'è qualche problema di tipo, ci sono dei problemi, ci sono delle possibilità anche di composizioni intermedie di questi assetti genetici, ci sono per esempio gli XXY, ci sono gli XXXY, ci sono delle aberrazioni genetiche che determinano il fatto che non si sia né perfettamente uomo né perfettamente donna, ma appunto le ho chiamate aberrazioni perché sui libri sono descritti come delle patologie, non come una cosa normale. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di scelte fatte per un gusto personale e niente a che dire sul gusto personale, per l'amore di Dio. Ogni omosessuale può vivere la sua vita sessuale come meglio crede, come meglio ritiene, se gli piace piace, insomma non è che io posso giudicare se azzecca o se sbaglia. Quello che intendevo dire, caro telespettatore, è che non posso pensare che una coppia gay, e questo era l'unico appunto che facevo però il più pregnante alla legge sui PAX, non posso pensare che queste famiglie possano regolarmente adottare dei bambini, perché il condizionamento psicologico sarebbe tale e così forte che questi bambini avrebbero sicuramente dei problemi, se si trovano due papà, uno che fa la mamma, uno che fa il papà, non si è capito bene come funziona, insomma. E così se fossi adottato da due donne. Quindi la legge sui PAX, sull'equiparare le famiglie omosessuali alle famiglie normali, io sono perfettamente contrario. C'è un secondo messaggino che dice non credere a quello che ti ha scritto prima, puntini, 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 non leggo perché è un po' offensivo, non so me fa sapere, non vorrei che fossero due persone che stavano scrivendo simultaneamente o stessero scherzando. C'è un terzo messaggino che dice che fine ha fatto il YC? Sapete il YC è quel sistema di trattamento dei rifiuti che noi abbiamo, che io ho sperato che funzionasse, perché se le premesse erano quelle che si ventilavano, si sarebbe potuto dare una risposta molto importante al problema dei rifiuti, si sarebbe potuto dare una risposta anche al problema ambiente e parecchi guai e problemi di Sulmona potevano essere risolti. Caro telespettatore, non lo so, non lo so perché è andato, si è fatta la sperimentazione, è andato in regione e lì è rimasta inguattata, non si sa che fine ha fatto. Abbiamo provato a cercare di avere questi benedetti risultati, non si sa che fine hanno fatto. Io non mi allargo a dire forse erano buoni o forse non erano buoni, dico soltanto che trovo molto sospetto questo fatto che non vengano fuori questi risultati e trovo comunque importante il fatto che qualcuno si sia preoccupato di cercare delle metodiche alternative al trattamento ordinario dei rifiuti o addirittura la messa in discarica così come sono. Speriamo che vengano fuori risultati buoni quando verranno, se non fossero buoni quei risultati speriamo che si possa trovare un'altra tecnologia, mi risulta leggendo su internet, ormai tutti quanti abbiamo internet a casa, che esistono delle metodiche di trattamento dei rifiuti diverse da quelle ordinarie che possono dare un impulso notevolissimo all'ambiente, all'energia e anche all'occupazione. che c'è di male a fare uno sforzo tutti insieme per trovarle queste tecnologie, per provare a sperimentarle, per provare a sforzarci di cambiare un pochettino quello che è ormai lo stantio ordinario di tanti posti d'Italia, dove non so se per interessi, perché a questo punto si può pensare di tutto o per semplice apatia non si cerca di fare niente di nuovo. Quindi mettiamo da parte dei messaggini, ringrazio ancora gli spettatori e veniamo a noi. Sono chiuse le urne da pochissimi minuti, ho avuto il tempo di sentire alla radio gli exit poll, gli exit poll sono quelli che praticamente ci danno il polso, il segnale di come sono andate le elezioni, sono delle dichiarazioni di voto fatte dagli elettori all'uscita dalle votazioni. quanto siano attendibili o meno non lo sappiamo perché la storia ci dimostra che spesso non sono attendibili, così come qualvolta invece danno un indice realistico della situazione. Questi exit poll pare che diano come ventilato prima delle elezioni un certo margine di vantaggio al centro-sinistra. Si sta materializzando una situazione che poteva essere ampiamente prevista se è vero che sia questa la situazione. Non è detto che sia la più giusta, ma è vero che dove l'economia non va bene, ve l'ho detto alla scorsa trasmissione, non si sta a vedere di chi è colpa o di chi non è colpa. È sempre chi comanda e chi sta al vertice e che poi paga, successo in Spagna, successo in Francia, successo in Germania, non si capisce perché non debba succedere in Italia. A urne chiuse si possono fare ormai questi discorsi, non hanno nulla di elettoralistico. Poi chi mi conosce e chi ha la possibilità di parlarmi tutti i giorni sa che in realtà è quello che penso. Altra cosa è dire che è giusto che sia così, perché così giusto non è, perché se vogliamo andare a vedere le responsabilità del cambio dell'euro ne abbiamo ampiamente discusso e ne abbiamo ragionato qualche puntata fa. Se dovesse vincere il centro-sinistra avremo il governo che vi ho detto l'altra volta, con i problemi che avremo l'altra volta, però una buona notizia ve la posso dare, preparatevi a rivotare fra pochissimo, perché se così dovesse essere con uno scarto, una vittoria del centro-sinistra con uno scarto minimo, tempo qualche mese c'è da aspettare, non c'è da aspettare molto, poi si riandrà a votare un'altra volta, perché è insostenibile una maggioranza di questo tipo, ve l'ho detto in moltissime occasioni, ognuno di voi ne può prendere atto da solo e ne può prendere atto soprattutto dai primi atti che un eventuale governo di centro-sinistra potrà mettere in opera nei prossimi mesi dovessero essere realistici questi exit poll, ce ne accorgeremo, ce ne accorgeremo con le tasse, ce ne accorgeremo con i PACS, ce ne accorgeremo con i rapporti con la Chiesa, ce ne accorgeremo con la politica estera, ce ne accorgeremo in tutti i frangenti della nostra vita, c'era qualcuno che diceva non siete voi che dovete andare a cercare la politica, sarà la politica che prima o poi vi trova o in banca o a casa. Ciò detto, vedremo, aspettiamo, vediamo i risultati finali e poi avremo modo di commentarli un po' tutti quanti insieme. Io devo tornare perché c'è stata la scorsa puntata che ha fatto, di venerdì scorso mi sembra, l'ex assessore D'Amato che io definì Celestino V, c'è stata un'aspera polemica nei miei confronti, ma proprio viscerale, si vedeva che era davvero arrabbiato, insomma. Assessore D'Amato, ex assessore D'Amato, non è che ce l'abbia con lei personalmente, che lei si arrabbia, addirittura parla di avvocati, lei ha i suoi avvocati, ma ce li ho pure io gli avvocati, stia attento a come parla, piuttosto a lei, temo che i miei si erano pure più bravi dei suoi. Certo io non ho le toghe rosse, ma qui al Tribunale di Sulmona non siamo al Tribunale di Milano, non ce l'ha nemmeno lei le toghe rosse, quindi stia calmino quando si deve discutere di qualche argomento. E se si deve discutere poi discutiamone, perché lei dice parliamo di politica, ma io vorrei parlare di politica, ho qualcuno che sappia parlare di politica, che si capisca qualcosa di politica, non certo con l'assessore Celestino Quinto, e questo lo dico perché? Lo dico fondatamente, perché il primo consiglio comunale che ci fu nel 2001, quando vinse le elezioni centrodestra al comune di Sulmona, ricordo che ascoltai con le mie orecchie ed è sicuramente registrato agli atti di quel consiglio, fu il primo consiglio comunale di Sulmona nel 2001. Ascoltai, prese la parola il consigliere D'Amato, oggi Celestino Quinto, e disse qualsiasi cosa dica o proponga alleanze nazionali io voterò sempre contro. Uno che fa politica si comporta in questo modo, la politica è dialettica, è discussione, è confronto, non si può aprioristicamente dire qualsiasi cosa dici tu, io voto contro, non sto contro, è comunque di boigotto, perché questo non si chiama politica, questo si chiama in un'altra maniera, è il metodo comunista, tu c'hai ragione, io c'ho torto, questo è il metodo comunista. Anche per quanto riguarda il problema dei bambini bolliti, che dice il consigliere non essere vero, il ex consigliere, ex assessore D'Amato, detto Celestino Quinto, nega forse le stragi comuniste che ci sono state in Cina. Emma Bonino, che non sta certo dalla mia parte, ma sta dalla sua parte, ha in maniera molto accanita denunciato i fatti che avvengono nei regimi comunisti, perché poi lui pure definisce Cina una dittatura, però si dimentica di mettere l'aggettivo principale di quella dittatura, dittatura comunista, che è imperversa tutt'oggi, anche se pare che ci sia qualche apertura. Le stragi del Tibet le ha dimenticate, mi è meraviglio che una persona che si definisce di cultura, che poi abbandona l'assessorato della cultura, ma che comunque continua a definirsi di cultura, ignori certi fatti. Evidentemente tanti libri non deve averli letti questo ex assessore, così come non deve aver letto la Divina Commedia, assessore, ex assessore, già presente la Divina Commedia, Dante Alighieri, da quanto avrei imparato a leggere, qualcuno li avrà nominato questo nome probabilmente, Dante Alighieri, ecco qui il problema di Celestino V, che lei dice, io non ho la cultura, il consigliere di A.N. non conosce Celestino V, dovrebbe sapere, se ha letto la Divina Commedia, ma a questo punto ne dubito, che Dante Alighieri individuava la figura di Celestino V come una figura totalmente negativa, tant'è vero che la metteva all'Inferno, l'Inferno è il primo cantico della Divina Commedia, poi qualcuno glielo spiegherà a casa. E metteva Celestino V nel girone infernale perché era accusato, a parere di Dante, di aver fatto un vile rifiuto, cioè di aver vilmente rifiutato il Sacro Pontificio, vale a dire non volle diventare Papa. Noi sappiamo quali furono le motivazioni di Celestino V, ma è altrettanto vero che la figura di Celestino V è rimasta impressa, nelle persone che hanno letto la Divina Commedia, non in lei evidentemente, l'immagine dantesca di colui che fece il gran rifiuto, probabilmente per Dante Alighieri, per Viltà. Mi pregierò di regalarne una copia della Divina Commedia così la finirà di sbrodolare insulti da questa telecamera. Perché l'ho paragonata a Celestino V? Perché lei aveva l'assessorato alla cultura, che le consentiva di fare un'azione politica importante. Fare l'assessore e ricevere una delega assessorile significa prendersi delle responsabilità e dover avere la necessaria capacità di poter tramutare le proprie idee in azioni importanti, a proprio parere, per la città. Evidentemente lei o non aveva idee, oppure non aveva la forza per tirarle avanti. Certo è che dall'opinione pubblica le sue dimissioni sono state interpretate come un atto celestiniano, inteso come Celestino V di Dante, cioè come una incapacità, parliamoci chiaro, di portare avanti determinate idee. Un uomo più forte probabilmente avrebbe potuto insistere su determinate idee, lei non ha saputo farlo. Ancora più grave, devo dire, è stato l'atto dell'ex Presidente del Consiglio Tolone che si dimise dallo scranno di Presidente del Consiglio. Più grave perché? Perché quella carica è attribuita con una votazione del Consiglio Comunale. Una votazione del Consiglio Comunale che avvenne all'unanimità, così come all'unanimità avvenne la mia elezione a Vice Presidente, è un qualcosa che andava rispettato in qualche maniera, non c'è stato nemmeno un moto di scuse dell'ex Presidente nei confronti del Consiglio, una motivazione vera. Guardi che si fa politica anche della Presidenza del Consiglio, si fa una bella politica della Presidenza del Consiglio. Evidentemente anche nel caso dell'ex Presidente del Consiglio non c'è stata forse la voglia, forse il coraggio di affrontare determinati incarichi. Quindi divina commedia, poi le racconterò. Rimane però un dato di fatto importante. Io mi rendo conto che quando si fa parte di un partito e si viene sfiduciati dalla base, così come è stato sfiduciato tutto l'establishment della direzione locale, dei DS, pensate che la base, i vecchi comunisti, i vecchi ex comunisti, comunque le persone che storicamente erano appartenenti a questo partito, hanno raccolto delle firme contro questi nuovi emergenti e rampanti dirigenti, hanno fatto proprio una raccolta di firme per esprimere il loro disagio nell'avere simili rampanti dirigenti al vertice. Non li apprezzano, non li approvano, io ho parlato con parecchi di loro, ma non c'è bisogno di parlarne perché nel momento in cui raccolgono delle firme ti sfiduciano e bisogna prenderne atto di queste cose qui, non si può trascurarle. Quindi datevi una guardata dentro casa vostra, anche se vincete le elezioni e non è mai male. Poi devo sottolineare l'ultimo aspetto, perdonatemi, ma io qua francamente l'ex assessore Celestino Quinto, dantesco Celestino Quinto, così mi capisce e non va in tribunale, se ci vuole andare ci vada, ci vado pure io, non c'è problema, non ci ha risposto, ha parlato di fumo, ha parlato di tante cose e poi quando parlano questi, parlo, parlo, non si capisce mai che cosa dicano, ma non ci ha risposto all'unica domanda seria, sensata che tutti i nostri accoltatori stavano aspettando. I compensi, lei dice che quello era un preventivo di bilancio, va bene, porto il consuntivo, faccia vedere ai cittadini che ci ascoltano, che voi non prendete compensi, che il direttore artistico non prende compensi, che il responsabile dell'ufficio stampa non prende compensi, che il direttore generale non prende compensi, dà la manifestazione di Sulmona Cinema, in realtà non lo potrà fare perché i compensi li prendete, e li prendete, li prendete i compensi, se ha coraggio, oggi è lunedì, venerdì venga qui, porti il bilancio consuntivo e dimostri a chi ci ascolta che chi organizza Sulmona Cinema non prende uno straccio di lira di compenso, se così è, io sono disposto a chiederle scusa, altrimenti sarà lei, ex Assessore Celestino Quinto a dover chiedere scusa a me. Con questo vi lascio e vi do appuntamento alla prossima puntata, buonasera.